Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua nel video post partita di Cagliari-Juventus finita con il risultato di 2-0 per la Juve Allora, prima di dirvi quello che per me è stata la partita ci tengo subito a destraniarmi da quelli che sono stati gli eventuali bu, lulati, qualsiasi cosa sia stata fatta dai tifosi del Cagliari ci tengo assolutamente a precisarlo questa cosa e spero che la maggior parte dei tifosi juventini capiranno che non tutti, noi del Cagliari ovviamente siamo così ripeto, ci tengo proprio tanto a dissociarmi da quello che è stato fatto, veramente tanto parlando della partita, partita brutta, partita veramente molto molto brutta tutti i meriti del caso alla Juve che secondo me è stata la, ovviamente è stata la causa principale per il quale non siamo riusciti a fare praticamente un cazzo è stata veramente la causa principale perché erano messi in campo in una maniera che dire perfetta è poco praticamente grazie al loro posizionamento non ci hanno fatto fare niente poi ovviamente noi come al solito ci andiamo a mettere il nostro perché se no non siamo contenti prima parte del primo tempo che non è stata poi neanche così malvagia perché comunque bene o male quel giropalla solido che abbiamo noi lo abbiamo fatto poi è arrivato il gol, il gol di Bonucci su una disattenzione difensiva mostruosa perché Maran ovviamente si ostina a difendere a zona sui calci d'angolo ovviamente Bonucci, cioè lasci libero uno come Bonucci, vabbè sui calci d'angolo poi lasciato completamente libero, colpo di testa secondo me poi perfetto perché l'ha messo proprio all'angoletto da lì in poi il Cagliari è sparito Cagliari è sparito secondo tempo tutto Juve tutto Juve nonostante comunque negli ultimi minuti comunque un po' ci abbiano lasciato giocare poi è arrivato il 2-0 di Keane di Keane, Keane come si dice perché mi sbaglio sempre il pronuncio, lo dico un po' all'inglese Keane perché mi è in mente Robby Keane però penso si dica Keane, Keane sì tra l'altro ha segnato il gol più brutto che poteva fare perché si è mangiato certi gol allucinanti ha segnato quello più brutto però ha segnato e ragazzi noi siamo stati veramente scandalosi i due peggiori secondo me, anzi i tre peggiori di cui uno non è un giocatore e presumo voi abbiate già capito a chi mi sto riferendo Cigarini Cigarini qualcosa di veramente obrobrioso veramente obrobrioso, verso l'ultimo ha sbagliato il mondo poi Faragò 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 veramente qualcosa di che cazzo ha fatto Faragò che partita di merda ha fatto che partita di merda ha fatto e ovviamente il terzo è Maranna perché cambi che non stavano né in cielo né in terra veramente cambi veramente stranissimi passi passi birza per Ionita lo accetto ci sta cerri cerri per Joao Pedro ma Padoin per chi cazzo è per Faragò Padoin per Faragò quello l'accetto ma cerri per Joao Pedro cerri per Joao Pedro cerri per regà ripetetelo ripetete alta voce nella mente cerri per Joao Pedro cioè sentire che suona proprio male è brutto no è brutto sentisse che un uomo solo vedesselo proprio davanti agli occhi Despotov che 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 complimenti Maran penso che in panchina sia andata così Maran era convinto che se tu non fai i tre cambi in una partita tipo cambi cumulativi nel senso tu li accumuli e poi li usi tutti in una volta lui magari pensava di poterne fare e poi sei con la spalla evidentemente poi gli hanno spiegato in panchina che non funziona così il calcio e quindi ha capito che magari era meglio sfruttarli quei tre cambi un po' a cazzo però li ha sfruttati regà abbiamo la rite abbiamo la rite che vabbè tanto sapevamo già che perdevamo sconfitta che alla fine non tange nemmeno più di tanto alla classifica del Cagliari ovviamente tocca vedere cosa faranno le altre però diciamo che con le ultime con le ultime partite ci siamo portati un po' più avanti e quindi diciamo che possiamo stare in una sorta di dormiveglia possiamo stare abbastanza tranquilli per adesso e niente ragazzi questo è il mio pensiero riguardo alla partita fatemelo sapere fatemi sapere voi invece cosa ne pensate della partita qua sotto nei commenti e noi ci becchiamo in un prossimo video bella ciao 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 ciao